Il 25 giugno 1963 nasce a Londra Georgius Kriakus Panayotu, in arte George Michael. Nel 1981 col compagno di scuola Andrew Ridgely forma gli WAN. Con i primi singoli conquistano le classifiche inglesi, ma nell'84 con Wake Me Up Before You Go Go arrivano al primo posto negli Stati Uniti e in svariati paesi nel mondo. Dopo tre album insieme George sceglie la carriera solistica con risultati straordinari, 110 milioni di dischi venduti, due Grammy Awards, 12 Billboard Music Awards e collaborazioni eccellenti con nomi come Aretha Franklin, Mary J. Blige ed Elton John. Purtroppo al successo professionale non corrispose quello personale. L'artista ebbe una vita privata complicata, segnata da alcuni problemi con la giustizia e dall'abuso di droga che lo portò alla morte alla sola età di 53 anni. Elton John rendendogli omaggio pochi giorni dopo la sua scomparsa ha detto che cantante, che autore, ma più di ogni altra cosa come essere umano era uno dei più gentili, dolci e generosi che io abbia mai conosciuto.